Domanda secca e lapitaria, con chi sostituiresti Immobile? Mi appengo all'oggettività, sicuramente la prima alternativa è Felipe Anderpon, quella ho visto. Si parlava di una prospettiva cancelliera in quel ruolo, ancora non lo vedo, e conoscendo un po' Maurizio Sarri, se tu non lavori in quella posizione e non lo convinci, non ti farà mai giocare, Maurizio io lo conosco, o quel poco che conosco. La suggestione, la suggestione Milinkovic-Savic, finto tre quarti, no non mi piace perché anche qua va approvata, il calcio non va inventato.